Ciao ragazzi, oggi nuovo Cosa mangi in un giorno? Mi vedete qua davanti con le buste della spesa perché appunto ho fatto la spesa e volevo farvi vedere molto velocemente che cosa avevo comperato però prima vi faccio vedere la colazione io sono appena tornata a casa, quindi sono prima passata a fare la spesa adesso sono tornata e farò colazione ora non l'ho fatta prima stamattina semplicemente perché sono andata a fare dell'analisi, poi siccome il laboratorio sta proprio attaccata alla cop ho approfittato, quindi adesso colazione e poi vi farò vedere che cosa ho comperato ah, prima di iniziare, scusate se sono proprio messa male però fa caldissimo stamattina quindi mi sono tirata al volo tutti quanti sui capelli perché sto veramente sudando, fa caldo 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 quindi detto questo ci tenevo a dirvelo perché magari vi pigliava un colpo colazione Billy si sente escluso in tutto ciò Billy è vuota la busta, non c'è più niente dai, dai, tieni, tieni, vai, vai vabbè per la colazione ho messo in una ciotolina una pesca adesso vado a fare a pezzettini, a fettine questa banana che come vedete è super matura però sarò l'unica al mondo ma a me le banane piacciono proprio quando sono stramature perché diventano dolcissime e quando sono a questo punto ci faccio molto bene anche il gelato vado ad aggiungere adesso uno yogurt di solito utilizzo lo yogurt greco però oggi al supermercato non c'era, era finito quindi ho preso questo bianco e mescolo tutto quanto poi la banana quando è così matura è anche morbidissima quindi in questo modo va a fare quasi una leggera cremina con lo yogurt e la pesca e va automaticamente a dolcificare tutto quanto completo con un pochino di semi di chia e vado infine ad aggiungere qualche scaglietta del muesli ecco solidale della coppia ed ecco la mia colazione pronta semplicissima, si prepara in un minuto anche di meno ed è buona, nutriente, ha insomma tutto quanto quello di cui abbiamo bisogno la mattina allora, dunque iniziamo ho comprato un po' di cose per la mattina perché ultima, per la colazione perché ultimamente mi andavano delle cose un po' più golose e non avevo mai nulla in frigo e in dispensa quindi iniziamo subito con il muesli croccante questo è quello della linea solidale ed è buonissimo perché gli ingredienti non sono affatto male ed è veramente buono, buono proprio di sapore allora, l'unica cosa è che ovviamente ha tanti zuccheri quindi anche negli ingredienti lo zucchero, anche se di canna, è proprio tra i primi ingredienti quindi lo userò proprio in piccole quantità giusto per dare magari un po' più di sapore allo yogurt o al latte non esagero mai con questi prodotti perché sono comunque sempre una botta di zuccheri non indifferente poi ho preso lo yogurt del semplice yogurt bianco questo in particolare è magro ed è della linea Vivi Verde della Coppa, quindi biologico e qua ho della ricotta ho preso la vallelata ho preso due ricottine piccole e una ricotta grande vi dicevo, ultimamente sto cercando di limitare il più possibile i latticini e lo yogurt e la ricotta sono l'unici, fra virgolette, che mi concedo poi ho preso un panetto di tofu era in offerta e l'ho cercato, l'ho cercata alla fine stava nel reparto tipo quello dove ci sono le zuppe pronte i saike bon che non c'è zeccava niente io lo cercavo lì nel banco frigo nelle cose a lunga conservazione e invece l'avevano messo lì per fortuna ci sono capitata perché cercavo un'altra cosa e l'ho visto poi ecco, sopra il tofu ho trovato questo bustone di mix di cereali integrali sono 5 cereali con la quinoa e mi incuriosiva molto anche perché è una di quelle cose che si prepara in poco tempo in 15 minuti quindi magari è comodo per una cena al volo o anche per farci delle insalatone fresche a pranzo magari poi ho preso un po' di banane che non mancano mai allora, ho preso una busta di insalata non sono un amante dell'insalata in busta perché cerco di scegliere sempre quella fresca però oggi al supermercato l'insalata fresca era bruttissima era davvero moscia moscia e non mi piaceva per niente e poi aveva soltanto le qualità che a me non piacciono e quindi ho deciso per una volta ogni tanto di prendere questa in busta perché mi era proprio venuta voglia di insalata poi ho preso un pacco di fiocchi di patate anche questo non è uno di quei prodotti che uso di solito però ci farò una focaccia dove ne servono tipo 2-3 cucchiai quindi con il purè ci andrò a fare la focaccia e magari fatemi sapere se vi interessa la ricetta della focaccia fatta in casa tipo pugliese perché è una ricetta molto facile e davvero valida quindi fiocchi allora, poi ho preso del pane ne ho preso uno bianco e uno integrale perché a Gian Paolo non piace molto quello integrale poi ho preso due pacchetti di feta reka e devo dire che mi piace molto la feta perché sia come sapore che come proprio consistenza quindi la metto magari nelle insalate con i pomodori mi piace molto ne ho presi due pacchetti e infine ho comprato qualche barrettina il cocco non si sente praticamente per niente però sa tantissimo di mango io adoro il mango quindi va benissimo e poi ne ho preso due di quelle di Melinda quindi a base di mele ho preso mela e mirtillo e mela e frago un attimo un attimo allora c'è Billy che ogni volta che sono nel postino viene giù con me e penso sempre che c'è qualcosa per lui allora di più dicevo le barrette quelle che avevo comprato erano croccanti invece queste sono morbidissime quindi sono molto curiosa di sentire come sono e basta questa è la mia spesa e adesso vado subito a mettere su il pranzo e andiamo avanti con il resto del video prima di mettere su il pranzo vado a prepararmi il tè freddo sto utilizzando questo qui di Fitty il tropical è il gusto nuovo e devo dire mi piace molto perché a differenza di tanti altri tè che quando si fanno freddi dall'infusione poi diventano un po' amari questo rimane molto morbido come gusto quindi questa cosa mi sta piacendo io ho riempito un pentolino e vado a metterci dentro due cucchiai poi con questa quantità mi verrà davvero tanto tè freddo perché lo allungherò con l'acqua una volta che si sarà fatta l'infusione passiamo al pranzo inizio dal secondo e andrò a fare delle melanzane grattinate io ho già lavato la mia melanzana e adesso la taglio a fette vado a mettere tutto quanto su una teglia e adesso passo al condimento che andrà sopra le melanzane andiamo a mettere in una ciotola il pane grattugiato vado ad aggiungere il pomodoro tritato un pochino di pepe e le erbe aromatiche che vado a tritare con le mie solite forbici siccome ogni volta ci chiedete in tantissimi dove le abbiamo prese vi lasciamo il link per acquistarle su Amazon costano poco mi sembra 7-8 euro e sono comodissime io mi ci trovo molto molto bene qua ci starebbe benissimo se vi piace ovviamente un po' di prezzemolo io però non ce l'ho quindi abbondo con il basilico poi aggiungo un po' di erba cipollina e infine mettiamo l'olio adesso mescoliamo bene e possiamo versare il composto di briciole sopra le melanzane qualcuno fa prima perdere un po' di acqua le melanzane cospargendole con il sale volendo potete farlo io però un po' per i tempi così faccio prima un po' per limitare l'uso del sale evito questo passaggio anche perché comunque il sale è contenuto già nelle briciole quindi un po' di acqua la perderanno comunque e siamo pronti per infornare metto in forno a 190 gradi anche 195 intanto che il secondo cuocio in forno io inizio a preparare il condimento per la pasta sarà semplicissima farò una pasta al pomodoro quindi mi sono già tagliata a pezzettini i pomodori adesso li vado a mettere in una padella aggiungo olio un pochino di sale e posso mettere sul fuoco a far rosolare bene le nostre melanzane sono pronte io le ho tolte dal forno hanno cotto in tutto circa 40 minuti vi consiglio quando fate le verdure gratinate di lasciarle sempre in forno qualche minuto in più magari anche abbassandoli in questo modo le verdure si andranno ad ammorbidire bene questo discorso vale soprattutto per melanzane e peperoni le zucchine invece se le fate gratinate potete lasciarle anche poco perché sono molto delicate nel frattempo che i pomodori rosolavano io ho cotto la pasta ho fatto dei paccheri che mi sembravano perfetti per questo primo per questo condimento adesso l'ho scolati sono cotti e l'ho aggiunti ai pomodori ora farò semplicemente mantecare un paio di minuti la pasta al sughino e a questo punto vado ad aggiungere il prezzemolo non lo metto prima altrimenti diventa amaro e adesso non ci rimane che impiattare se vedete che il sugo di pomodoro quando andate a mantecare la pasta è un po' secco è un po' scarso potete aggiungere un pochino di acqua di cottura io per completare il piatto vado ad aggiungere un pochino di fetta greca che ho semplicemente sbriciolato e secondo me come abbinamento di gusti in un piatto del genere sta benissimo anche il pranzo è pronto per essere mangiato guardate che bello semplicissimo e davvero gustoso per merenda avevo voglia di qualcosa di salato e mi sono fatta l'hummus ho preparato questo hummus con i pomodorini secchi semplicissimo ho aggiunto giusto un goccino di limone nel posto dell'aceto perché l'avevo finito e poi ci aggiungerò quest'insalatina che è l'insalatina non del mio orto ma del mio balcone guardate com'è carina quando l'ho piantata sinceramente non pensavo che sarebbe venuta su invece ha fatto proprio un bel vasetto e niente questa è la mia merenda semplice semplice in un pentolino ho messo la quinoa che ho anche sciacquato sotto l'acqua corrente adesso quindi non mi rimane che aggiungere l'acqua vado a mettere anche una presa di sale e possiamo mettere sul fuoco intanto che la quinoa cuoce io inizio a tagliare le verdure allora siccome i pomodori che pensavo di fare ripieni una parte li ho utilizzati per il pranzo aggiungerò due zucchine altrimenti sono un po' pochi quindi per quanto riguarda i pomodori andrò semplicemente a togliere la parte superiore questa ovviamente non la butto ma dato che è comunque pomodoro me lo mangerò così fresco ora vado ad incidere un pochino la superficie e aiutandomi con un cucchiaio o un cucchiaino vado a togliere l'interno di semi adesso possiamo tagliare anche le zucchine questa è un po' brutta ma non importa io per tagliare le zucchine vedo qual è la loro posizione in cui stanno ferme e da qua poi le vado a tagliare altrimenti se le taglio in un altro modo poi nella teglia del forno mi vanno a ballare quindi questa sta ferma su questo lato e io la taglio così anche in questo caso con la zucchina non la taglierò esattamente a metà ma taglierò soltanto la parte superiore in modo da avere poi più zucchina una zucchina che mi fa più ripieno spero di essermi spiegata a modo mio ovviamente anche in questo caso lo scarto tra virgolette scarto non si butta ma si riutilizza siccome questa zucchina ha pochissimi semi l'interno in questo caso lo andrò a riutilizzare tutto immagino invece di solito ci sono delle zucchine ma questo capita soprattutto quando inizia a finire la stagione e sono davvero pienissime di semi in quel caso in realtà lo butto e di solito con la zucchina così triturata ci faccio delle polpette lo utilizzo nella pasta la faccio quasi sempre cotta la nostra quinoa è pronta l'acqua si è assorbita completamente nel caso in cui aveste ancora dell'acqua nella pentola potete scolarla e adesso andiamo ad insaporirla vado ad aggiungere un pochino di sale un filo di olio vado a mettere le mie erbe aromatiche fresche in questo caso utilizzo come sempre il basilico voi potete mettere quello che preferite ci sta bene davvero tutto poi vado ad aggiungere un pochino di pepe vado ad aggiungere una punta di aglio in polvere e vado ad aggiungere un pochino di feta che ho semplicemente sbriciolato e delle olive tritate ok mescoliamo bene tutto quanto e possiamo farcire le nostre verdure con la quinoa che è avanzata nella pentola qua e questo cucchiaio invece che è avanzato dal condimento ci andrò a preparare delle polpette che darò a Gian Paolo domani per pranzo aggiungo il sale aggiungo le zucchine tritate questo era lo scarto che abbiamo utilizzato dalle zucchine per la cena vado ad aggiungere due albumi con questo dicevo avevamo fatto una ricetta ci servivano i tuorli quindi riutilizzo così gli albumi altrimenti potete mettere un uovo e aggiungo una ricottina adesso vado a mescolare tutto quanto bene e regolo la consistenza con il pane grattugiato e vado a fare i miei burger nel forno che perché vedete quanto spazio sprecato dobbiamo tappare i buchi ok adesso sì che sono soddisfatta guardate belle belle precise carine le nostre polpette e possiamo rimettere in forno sempre 190 gradi guardate quanto sono belle fanno davvero un sacco gola zucchine pomodori con la quinoa e in forno hanno cotto insieme alle polpette 40 minuti circa diciamo che io me le sono dimenticate potevano stare anche una mezz'ora comunque questo è il risultato se vi piace nell'impasto ci sta bene anche ad esempio un po' di formaggio se vi piace se lo mangiate altrimenti sono ottime anche così quindi queste sono le polpette io spero tanto che questo video vi sia piaciuto se è così mettete un bel mi piace noi ci vediamo al prossimo video e alle prossime ricette ciao